sta da noi sta da noi sta arrivando da lui arrivando siamo pronti dottore la signorina chi vuole regalare il corno ce n'è bisogno ed abbiamo scelto il nero che è più potente del russo glielo devi attivare il nero è più potente del rosso non lo sapevo posso bucarlo sempre regalati rossi e io mi devo dire più potente del rossi serve uno enorme serve un cornone la cosa più importante è che glielo deve attivare se non con il palmo lei apre il palmo della mano sinistra lei con la punta punterà chiuda per tre secondi riapre il palmo e il corno è attivato qualora il giorno che si rompe deve essere che si rompe il corno perché di argilla e materiale che si rompe deve essere contento perché vuol dire che ha funzionato va lavato e buttato non conservato mi raccomando mi raccomando aprire il palmo questo è il pensierino che gli ha fatto la signorina è gentilissima io invece visto che verena mi regalano sempre russo io vi do un bel portaglia di rosso no così non mettiamo sui mani della casa lo mettiamo in tasca questo invece lo mettiamo sulle mani in miglia e il palmo è sempre sinistra chiuda contate fino a 3 pure li apri te faccio mettere per le chiavi questo momento dentro allora allora non c'era ora non trovano per il miglia ora all'ultimo una una foto con lei c'è una volta che mi spiegano rituale non lo sapevo c'è sempre la prima volta grazie buona vita a gallipoli noi ci abbiamo il buon toti di mattina di gallipoli lei la sta trascando il rosso di fianco al nero sta benissimo ma io vorrei dire che se ti dico una cosa per più salvinista piolino 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 è domenica è domenica e beh prima di domenica si parla di amico fra un'ora ti risponde fra due ore ti risponde magari sarà la risposta è ma perché ma ma ma